Amici e amiche di LegaNerd, bentornati! Io sono Alessio e sono il vostro traghettatore scientifico per quanto riguarda Eureka. Prima di tutto iscrivetevi al nostro canale di YouTube e attivate la campanellina per quanto riguarda tutte le nostre notifiche. Ma abbandono le ciance e torniamo alla nostra scienza perché oggi, in 5 minuti, vi parlerò del progetto 4Ocean e di tutto quello che concerne l'inquinamento marino. Quindi, sigla! 4Ocean e di tutto Che cosa è successo nella loro storia? Una domenica, come tante altre, si ritrovano a surfare in una spiaggia a loro molto cara. Quella spiaggia era ricoperta, ovviamente, da rifiuti e da plastica. Invece di surfare, hanno deciso di prendere dei sacchi e incominciare a ripulire quella spiaggia. Si è iniziato a creare un passaparola, un passaparola un po' particolare tra sportivi e tra surfisti. Da 2 sono diventate 10 persone, da 10 persone sono diventate 20 persone. Più che uscire per surfare, si usciva per ripulire delle spiagge. Considerate che, secondo la Ellen MacArthur Foundation, fondata nel 2010, con l'obiettivo di accelerare l'avvento della Silk Car Economy, sono 150 milioni le tonnellate di plastica che sono presenti oggi nei mari. E si estima che questo dato continuerà a crescere fino a 8 milioni di tonnellate all'anno in più rispetto agli anni precedenti. Questo è un trend che, in qualche modo, va non soltanto cancellato, arginato e modificato. In questi anni anche l'ONU si è impegnata nella campagna Clean Seas, con il fine di sensibilizzare dei governi e delle aziende sul tema dell'inquinamento marino. Un argomento da sempre ritenuto abbastanza remoto e anche lontano. Ecco perché il progetto 4Ocean è uno di quei progetti che è nato da diverso tempo, ma che ancora non ha, diciamo, l'esplosione pubblicitaria e mediatica che invece dovrebbe avere. La cosa è la plastica che galleggia i nostri mari? Più di 690 specie sono in estrema difficoltà e il 17% di queste specie sono a rischio di estinzione. Negli ultimi anni si sono susseguiti nelle varie piattaforme di streaming diversi documentari sul grado di inquinamento atmosferico, ma anche sul grado di inquinamento marino. con dei dati terribili soprattutto per le microplastiche che vengono ingerite dai pesci per poi finire ovviamente i nostri piatti. Questo ovviamente ha modificato anche il nostro modus operandi per dire ok, l'inquinamento marino non è più un qualcosa di assolutamente remoto. L'avventura e la missione di Andrew e Alex è proprio quella di ripulire quanti mari e spiagge possibili con i mezzi che l'associazione 4Ocean, fondata ovviamente dai due surfisti, prevede. Per darvi alcuni numeri, l'associazione 4Ocean nei primi due anni della sua nascita è riuscita a imbastire una struttura con 75 dipendenti, centinaia di volontari e progetti avviati in 20 paesi differenti. La manovalanza del volontariato da sola non basta ed ecco perché i surfisti hanno deciso di utilizzare una sorta di, per dare continuità alla missione, i due surfisti hanno pensato di creare una vera e propria rete di dipendenti che con il supporto di vari pulitori locali, giovani, lavoratori, anziani e addirittura turisti riescono a coprire ininterrottamente le zone prefissate per la pulizia. Ma una delle cose più importanti dell'associazione 4Ocean è il loro modo di autofinanziarsi. Lo fanno con diversi oggetti, ma ovviamente l'oggetto più famoso, che l'ha resi un pochino popolari nel mondo del web, è il loro braccialetto. Il loro braccialetto con uno slogan, one bracelet, one pound. Un braccialetto, one pound, è poco meno di mezzo chilogrammo di materiale di immondizia. Con l'acquisto di un semplice braccialetto nel loro sito 4Ocean.com si può ovviamente alimentare e continuare a far sì che la ricerca e la missione dei due surfisti continui ad essere sempre più importante nelle nostre spiagge e nei nostri mari. 100% riciclato e solidale, unisex, completo di un documento che spiega perché l'associazione ha iniziato la campagna di pulizia degli oceani e quali sono i prossimi obiettivi. Il braccialetto è formato dalla plastica riciclata appunto e presa dal mare e dalle palline di vetro ovviamente riutilizzate da tutte le bottiglie che vengono trovate nei fondali marini o nelle spiagge. La volontà dei due surfisti nel dare il buon esempio è degli strumenti che si usano per comunicare e dalla trasparenza delle azioni, totale. Ed è proprio grazie al passaparola del web che 4Ocean è riuscito ad espandersi cooperando con altre associazioni di pulitori delle acque. Il fenomeno dei surfisti che ripuliscono il pianeta si è espanto a vista d'occhio soprattutto nel mondo della tavola e dello sport. Ormai non ci sono gare e campionati dove gli atleti prima di surfeggiare non dedicano nel tempo alla pulizia di quel litorale o di quella spiaggia. Per chiudere con altri numeri presi ovviamente dai primi anni dell'attività della 4Ocean, nata appunto nel 2017, considerate che il primo anno l'associazione è stata in grado di recuperare efficientemente una quantità pari circa a 115 tonnellate di rifiuti e solo 40.000 kg di immondizia delle acque delle coste degli Stati Uniti e dei Caraibi e Canada e si è posto come obiettivo di raggiungere entro il 2018, ovviamente obiettivo superato, quello delle 450 tonnellate. Adesso capite che con questi numeri quanto ancora c'è da lavorare e quanto si deve supportare un progetto come quello di 4Ocean. Fresco, un progetto innovativo, è un progetto fatto da ragazzi che vogliono semplicemente ripulire il pianeta e far sì che tutti i cittadini diventino appunto cittadini attivi. Quindi ragazzi seguite 4Ocean i nostri approfondimenti e al prossimo video!